Oggi è sabato, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, cari telespettatori, siete su Fano TV, canale 17, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, commento alla stampa del giorno, abbiamo selezionato per voi come sempre i giornali, tra poco li vedremo, adesso però andiamo a vedere il santo, oggi è Santa Rita, Santa Rita da Cascia è una santa, una religiosa che ha avuto una storia incredibile, sposata con un uomo violento, sopportò con pazienza i suoi maltrattamenti, riconciliandolo però il marito con Dio, poi il marito morì, morirono anche i figli, entrò nel monastero dell'ordine di Sant'Agostino a Cascia, in Umbria, offrendo a tutti il sublime esempio di pazienza e di compunzione, la santa degli impossibili, allora 5.36 l'alba, 20.38 il tramonto. Come sarà questo fine settimana? Andiamo su trebimeteo.com, weekend Italia tra anticiclone, africano acquazzoni, mappe e aggiornamenti, caldo africano punta parte dell'Italia, picchi con sopra i 33 gradi centigradi, diciamo che l'Italia è divisa un po' in due, comunque centro-sud avrà questo picco di caldo. Intanto vediamo per la giornata di oggi, questo è il mattino, il pomeriggio e la sera con velature estese su tutta la regione, domani, domenica, vedete questa è la giornata completa dal mattino alla sera, non c'è nulla da dire se non ecco lunedì pomeriggio questo isolato piovasco insomma nel Pesarese, nell'interno del Pesarese. Corriere Adriatico, edizione di Pesero, Marche Nord, estate di lavori, gli interventi strutturali in programma nel pronto soccorso, anzi nel pronto soccorso del San Salvatore di Pesero e del Santa Croce di Fano. La provincia intanto sul fronte della pandemia, la provincia di Pesero è maglia nera dei contagi nella regione, ma cinque comuni sono ora covid free, a centropagine invece patto tra comune e ferrovie, accordo sul restyling della stazione di Pesero, mentre oggi i centri commerciali riaprono nel fine settimana e da lunedì riapriranno anche le palestre. Dunque a grandi passi verso le prossime riaperture, scrive Andrea Taffi sulla prima del Corriere, dopo lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, dal 7 giugno, secondo il cronoprogramma, si potrà uscire di casa fino a mezzanotte per poi eliminare del tutto il coprifuoco a partire dal 21 giugno. Da oggi invece i centri commerciali saranno aperti a pieno regime anche nei fine settimana, mentre da lunedì riapriranno le attività delle palestre. La cronaca, lei focosa, lui stanco, insiste, si infuria e alla fine lo picchia. A Pergola sequestro e stalking, l'amore della coppia finisce in tribunale, poi affano sindaci soddisfatti dei progetti utili, risorse importanti. Mentre lo sport, con la stagione che rianima un po' la città di Pesero, sono in arrivo 1300 atleti, competizioni nazionali di triathlon e duathlon. Ricci dice si inaugura oggi la stagione del riscatto, mentre il Fano si gioca la salvezza al Mancini contro la squadra del Limolese. Il Carlino di Pesero, meno coprifuoco, più prenotazioni, gli albergatori respirano male giugno, ma per luglio e agosto cominciano ad arrivare segnali positivi. Repege all'allenatore della VL che se ne va, se ne va e va alla fortitudo di Bologna, adesso l'addio ufficiale, da sacchetti a Buscaglia, ecco l'ipotesi per la VL. Insomma, si parla già di chi sostituirà Repege. Roberto Mancini, invece, il CT della Nazionale, ha presentato ieri in videoconferenza lo spot Innamoratevi delle Marche, poi dicevamo di questa doppia iniziativa, triathlon e duathlon, il weekend a tutto gas, e mentre la cronaca ci segnala, anzi una protesta, soprattutto a Muraglia, una persona che è andata a vaccinarsi, le hanno spostato l'auto, le hanno rimossa, dentro c'era però la sedia a rotelle. La politica, Ceriscioli, Archivi Agostoli, è ora di uscire dal Pantano, di taglio basso il Fano si gioca a mezza salvezza contro Limolese, poi il caso Erdorica, così volavano gli sprechi. Ecco le carte in retroscena dell'inchiesta, l'avvocato della Masselli dice, ma lei non c'entra. L'epidemia in ritirata nelle Marche, ma la zona bianca non è all'orizzonte, continua il calo dei contagi, le Marche però sono tra le regioni che frenano di meno. Incidenza settimanale di casi a 75 ogni 100 mila abitanti, bisogna scendere sotto i 50. Il monitoraggio conferma un rischio basso, terapie intensive occupate al 22%, restano le misure da fascia gialla. Dunque ieri intanto altre 4 vittime, pazienti tra gli 81 e i 92 anni, che portano il totale nelle Marche a 3.004. Intanto il governatore ha anche dichiarato, a margine di una della conferenza di presentazione dello spot sulle Marche, non siamo vicini al cambio di colore, cioè la zona bianca. Oggi non siamo vicinissimi, ha detto il governatore Acquaroli, i dati sono in continuo miglioramento, credo che nelle prossime giornate potranno esserci ancora novità positive, però bisogna essere cauti e con i piedi per terra. Sul Carlino di Pesero, hotel, meno coprifuoco, più turisti in arrivo. Il giugno male, ma ora la gente prenota. L'effetto delle minori restrizioni si vede già nelle strutture cittadine, all'inizio lavoreremo più con gli anziani, poi speriamo nel pienone. A breve sarà aperto l'80% delle strutture e in generale saranno attivi tutti gli alberghi, sia gli annuali che gli stagionali. Insomma, non ci sarà il boom a giugno, visto che il coprifuoco sarà eliminato completamente a partire dal 21 giugno, ma a luglio e agosto potrebbero registrare il tutto esaurito. Comunque, insomma, le richieste stanno arrivando e per giugno abbiamo ancora poche prenotazioni, dice il Presidente degli albergatori pesaresi, Fabrizio Liva. Tra l'altro adesso sta nascendo una guerra tra poveri, ma comunque chi è più intelligente sicuramente chi metterà più in campo delle azioni meno restrittive vincerà la partita dei turisti, perché poi saranno loro a far ripartire un po' l'economia. E come si portano i turisti in casa? Eliminando il più possibile vincoli e restrizioni. Quindi paesi, tipo la Grecia, stanno già inventandosi cose, stanno liberando tutto quanto, quindi è chiaro che se in Italia hai delle restrizioni e in Grecia, in altri paesi, no, ovviamente il turismo si sposta verso quella direzione. Poi c'è questa storia del Green Pass che a mio avviso, a mio parere, è un qualcosa di anticostituzionale perché limita la libertà in toto delle persone. Quindi io direi che insomma anche su questo fronte, anche se poi molti, anche Draghi ultimamente è uscito dicendo che tutto il mondo si deve vaccinare, insomma stai calmo, una cosa alla volta, intanto cominciamo con le persone quelle più fragili, quelle che hanno più bisogno e soprattutto quelle sotto casa. Poi al mondo ci penseremo. Il fattore 23 dalla spinta, primi segnali di ripresa, il nostro viaggio, questa è un'altra più o meno notizia che è in chiave fanese, il nostro viaggio tra gli operatori dopo lo spostamento del coprifuoco, gli albergatori dice alla gente che ha voglia di muoversi, arrivano le prenotazioni, intanto sorridono anche altri fronti, il fronte dei ristoratori applaude, boccata d'ossigeno dopo l'apnea. A pagina 15 del resto del Carlino, morti Profilglas, il PM chiede la condanna di Paci, un anno e mezzo di reclusione, 600 mila di sanzione e altrettanti da confiscare. Arringa difensiva e sentenza per il 18 giugno. Morirono, scrive Roberto Damiani, due operai in due mesi all'interno dell'astabilimento della Profilglas di Bellocchi di Fano, era il 2017. Ieri il PM, Valeria Cigliola, in serie di processo, gritto abbreviato, ha chiesto la condanna ad un anno e mezzo di reclusione per Giancarlo Paci, titolare della Profilglas, ritenuto responsabile di omicidio colposo. La pubblica accusa ha riconosciuto però che l'azienda ora punta sulla sicurezza. Le vittime, queste due vittime, erano un operaio che cadde dal tetto e un altro travolto da un bancale tra marzo e giugno del 2017. Sempre dalla pagina di Fano del Carlino, due caprioli nel canale Albani, uno salvato, l'altro purtroppo non ce l'ha fatta. Task Force dei Vigili del Fuoco per cercare di tirarli fuori, uno dei due recuperato, tra gli applausi dei passanti. Intanto dalla polizia locale di Fano arriva la notizia di 11 nuovi agenti e più sicurezza alla Rocca Malatestiana. Ancora cronaca dal Corriere Pedone, di 88 anni investito da un automobilista, un coetaneo tra l'altro, paura a bellocchi nei pressi di una rotatoria, interviene l'eliambulanza. A rilievi sulla dinamica della polizia locale, il ferito ricoverato non è in pericolo di vita. Dalla Val Cesano, da Pergola, per la precisione l'amore è finito in tribunale. Accuse di sequestro e stalking, a giudizio un 26enne di Pergola, denunciato dall'ex fidanzata ventenne. La convivenza era diventata praticamente un incubo. L'imputato nega però di aver usato violenza. Lei è una ventenne di Pergola, il suo ex fidanzato, un 26enne del posto, l'avrebbe sequestrata in casa, umiliata, insultata e perseguitata. Lei ha detto di aver lasciato addirittura il lavoro, salvo poi contraddirsi di fronte alle domande dell'avvocato in aula, e ha raccontato persino che lui la chiudeva in casa, impedendole di uscire. L'imputato invece ha detto di non averla mai minacciata e che durante i litigi si sarebbero insultati vicendevolmente. A luglio, fissata l'ultima udienza, la ragazza non si è costituita parte civile. Sempre su questa pagina della Val del Cesano, abbiamo aperto con il Santo del Giorno, oggi Santa Rita, lo ricordiamo, c'è questo doppio appuntamento di fede oggi a Mondolfo. Nella messa delle 19 di stasera, nella collegiata parrocchiale di Santa Giustina, alla Piazza del Comune, si svolgerà l'antico e suggestivo rito da parte del parroco Don Emanuele della benedizione delle rose, che ognuno ovviamente dovrà portare da casa. Poi alle 20.30 l'unità pastorale Valcesano, con le parrocchie di Monteporzo, Castelvecchio, Ponterio, Montolfo e Marotta, si incontreranno sempre nella collegiata mondolfese per la veglia di preghiera alla vigilia della grande solennità di Pentecoste, che è domani. Il PD invece, la politica, il PD deve cambiare, usciamo dal Pantano, dice Luca Ceriscioli, ex governatore che coglie l'attimo e archivia Gostoli. L'ex governatore chiede la convocazione dell'Assemblea regionale e l'apertura di una nuova fase, perché dice così non si può andare avanti, non possiamo stare ancora fermi. La prima cosa da fare è sbloccare la situazione, dice Ceriscioli. Il segretario dimissionario, intendendo ovviamente Gostoli, è dimissionario da sei mesi e non si può continuare a stare fermi con un segretario regionale dimissionario che però rimane lì dov'è. Una protesta, quella dei fedeli, di un paesino del Pesarese che domani hanno la chiesa praticamente di fatto, anzi irraggiungibile. Dunque il parroco cosa ha deciso? Di annullare la messa. Don Michele Rossini protesta, Santa Marina Alta sediata dalle gare sportive, che sono appunto triathlon e duathlon di cui abbiamo parlato. I fedeli non possono arrivare, quindi non si può dire messa. Tra l'altro problemi anche per i ristoratori, lì ci sono due ristoranti che, anzi un paio di ristoranti, due o tre ristoranti che domani insomma avranno la strada praticamente chiusa. È una conseguenza di queste manifestazioni sportive che si svolgeranno tra oggi e domani. Capita a Santa Marina Alta in strada dei Canneti a due passi dalla Panoramica. Domani dalle 7.30 a mezzogiorno la strada da Fiorenzuola di Focara a Pesaro sarà chiusa, così come oggi dalle 15.30 alle 18.00 e proprio domani dalle 9.30 ci sono in programma anche una decina di comunioni in giro. Insomma è un disagio, dice il parroco, a cui non sembra però esserci una soluzione. Ancora da Fano, addio ad Alida Battistelli, presidente di Fior di Lotto. Era la guida del suo Dalizio, che riunisce le donne con tumore al seno. Un attivista, sempre in primissima linea, lutto in tutta la provincia. Alida Battistelli, 61 anni, ha lottato fino all'ultimo contro appunto il tumore al seno, quella maledetta malattia, incarnando coraggio e determinazione, ma ieri è stata sopraffatta. Cinghiali, andiamo a Urbino. I cinghiali parte l'operazione cattura. Il sindaco di Urbino Gambini dice la situazione è di pericolo crescente. Una ditta specializzata li preleverà, questi cinghiali, li porterà in un allevamento autorizzato. Si tratta di una società toscana, da quello che si capisce, che li preleva e li porta praticamente nel proprio allevamento di 100 ettare. Qui vengono cresciuti e poi una volta adulti vengono abbattuti. Questa è la peculiarità, ovvero non vengono uccisi i piccoli. Sono almeno una cinquantina quelli da catturare lì attorno a Urbino. La spesa per questa operazione dovrebbe essere intorno ai 15 mila euro. Per quanto riguarda le tempistiche, il sindaco risponde e dice non sappiamo quando partirà questa cattura, ma si parte da lunedì. Intanto in questo momento ci stanno mettendo le esche e le pasture dove verranno installate poi queste gabbie. È arrivata una stalla mobile dove vengono portati i cinghiali una volta catturati. Poi da lì se ne vanno appunto in terra toscana dove verranno cresciuti, allattati e poi fatti fuori. Questo è l'iter. Poi Senigallia invece. La pagina del Corriere Adriatico. Il bar in spiaggia chiudono, il bar in spiaggia chiudono alle 21, ma si possono chiedere anche delle deroghe. Il Comune ha scelto una soluzione di compromesso. Cancelli negli stabilimenti contro i vandali. Intanto il matrimonio civile celebrato dagli amici accolta a Senigallia alla richiesta di una copia che non voleva i politici. La rotonda si conferma la location più gettonata per i riti. Il sindaco di Senigallia Olivetti dunque lascia la facoltà ai cittadini di celebrare i matrimoni, ovviamente quelli civili. Una novità introdotta di recente dopo aver verificato che fosse possibile delegare anche ad una persona che non fosse un amministratore. La facoltà di unire in matrimonio con rito civile. Lo sport avanti fanno. La salvezza passa per il Mancini. Alle 17.30 play-out contro Limolese. Difesa decimata, ma Gentile recupera e potrebbe essere schierato al fianco di Cason. Mentre Fra Vuel e Repegia, ora l'addio ufficiale, il coach è uscito dal contratto. Manca l'annuncio della fortitudo. La società lo saluta con stile. Tra i possibili sostituti anche Sacchetti. Il nome del CT azzurro, Meo Sacchetti, non gira a caso, scrive Elisabetta Ferri, anche se a farlo circolare come possibile arrivo, prima a Varese e adesso a Pesaro, è la fortitudo stessa che vuole liberarsi di uno stipendio pesante, essendo Sacchetti ancora libro paga dopo l'esonero. Fra i papabili potrebbero esserci anche Cesare Pancotto, un marchigiano doc con il quale il matrimonio però non si è mai fatto, nonostante ci siano stati vari corteggiamenti nel corso di questi anni. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna. Vi ricordo che oggi alle 18 avremo in diretta il rosario dalla Spagna, poi alle 21 invece sempre il rosario da Loreto, dalla Santa Casa. Domani, giorno di Pentecoste, alle 10 messa dalla Basilica Vaticana con Papa Francesco e poi alle 18 il rosario dal Canada. Grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti voi.